Il percorso del liceo artistico, corso serale, dell'Istituto Polo Bianciardi è rivolto a chi desidera dedicarsi allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, nonché all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative alle arti. Forniamo agli studenti tutti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico-culturale, per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Le lezioni si svolgono nei nostri laboratori, dove i docenti guidano gli studenti nelle attività pratiche. Si dipinge e si scolpisce sotto la guida dei docenti, appunto, in laboratorio di figurazione che si indirizza in pittura e in laboratorio di figurazione che si indirizza anche a questa sulla scultura. Gli insegnanti stessi sono pittori e scultori presenti nel panorama regionale. L'apprendimento nei laboratori d'arte è di tipo pratico e soprattutto individuale. L'acquisizione di conoscenze e competenze avviene attraverso la pratica artistica. I corsisti imparano a conoscere tecniche e materiale partendo dagli strumenti fondamentali del disegno, che è il padre di tutte le arti, in un continuo confronto con i maestri del passato e con i maestri contemporanei. Lo scopo del corso è sviluppare e far emergere le potenzialità artistiche dell'individuo, consentendo ai corsisti di ottenere, se vogliono, il diploma di liceo artistico. Le lezioni si svolgono alternando i laboratori d'arte con i corsi teorici. La flessibilità e l'empatia dei docenti permettono quindi un'esperienza entusiasmante per gli amanti dell'arte. Le gite scolastiche, le lezioni svolte nei musei del territorio con l'aiuto degli storici dell'arte curatori delle collezioni, la partecipazione ad eventi e mostre d'arte fanno sì che l'esperienza didattica non sia di tipo statico, ma dinamica, assicurando una formazione artistica di livello professionale. I nostri studenti hanno l'opportunità di prendere parte a stage di incisione o di pittura o di scultura. Questa scuola è strutturata in un primo biegno, corrispondente alla classe prima e seconda, un secondo biegno che riguarda la classe terza e quarta e infine un terzo biegno, nel quale gli studenti svolgono le lezioni della classe quinta. Il percorso scolastico si conclude con la prova dell'esame di Stato, che consente ai discenti di conseguire il diploma di maturità artistica. Si può accedere al corso serale essendo già in possesso del diploma di licenza media o di qualunque altro diploma di scuola media secondaria o superiore di secondo grado. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!